Bentornati sul canale, oggi parliamo di un libro che ho letto rapidissimamente in un giorno e mezzo e che non solo mi è piaciuto, ma mi ha proprio lasciato qualcosa di positivo, non soltanto come lettrice ma anche proprio come persona, come donna. Sto parlando di Un'estate con la strega dell'Ovest di Kao Nashiki, sicuramente l'ho pronunciato malissimo. Parliamo di un romanzo giapponese che è costituito dal romanzo vero e proprio e da alcuni racconti che però hanno sempre come protagonista la bambina, appunto Mia, della vicenda. Mia è una bambina di 12 anni che va a trascorrere un'estate con la nonna ed è proprio lei la strega dell'Ovest. Non è un fantasy, quindi non parliamo della vera strega dell'Ovest, diciamo così, ma è una metafora per indicare una rappresentazione, diciamo così, della magia molto reale, molto concreta. La magia in realtà è uno spunto che prende appunto la nonna di Mia per aiutarla. Mia potremmo definirla come una bambina pass, cioè una bambina ad alta sensibilità, perché ha un modo di approcciare la vita non soltanto estremamente riservato, più che timida la definiremo proprio introversa, ma questo le provoca, queste emotività così prorompente le provoca ovviamente delle difficoltà, difficoltà a livello familiare, a livello chiaramente scolastico. Il fatto di essere una persona ad alta sensibilità non significa che si commuove con qualsiasi cosa veda, perché è un rischio, diciamo così, molto comune quello di prendere le persone ad alta sensibilità come delle persone facili alla lacrima. In realtà questo avere una sensibilità prorompente rende molto spesso queste persone in difficoltà, perché ogni cosa che gli capita attorno in qualche modo la assorbono come delle spugne. Sono persone che hanno difficoltà ad esempio a stare in ambienti estremamente rumorosi, che hanno proprio un bisogno fisico di decompressione, perché i stimoli emotivi, e questa è una questione ormai conclamata perché c'è una letteratura scientifica a proposito, questa avere la parte diciamo così del cervello comunque che riceve le stimolazioni emotive così molto esageratamente attiva, li provoca veramente delle tempeste emotive e tutto quello che in qualche modo intorno avviene è amplificato dall'emotività di queste persone e quindi molto spesso i pass sono persone che non vivono bene diciamo la loro condizione, che hanno bisogno comunque di essere aiutate, a essere sostenute per riuscire a gestire questa tempesta di emozioni che ogni giorno, in ogni momento li coinvolge e li attacca, diciamo così, proprio un vero e proprio attacco e lo dico perché ho delle ragioni anche personali per parlarne in questa maniera. Quindi dicevo questo è un libro che mi ha dato molto anche come persona, non soltanto come lettrice e sì ragazzi perché io sono una persona ad alta sensibilità, un passo mi definirei e questo diciamo mi permette comunque non soltanto di capire bene quello che accade alla protagonista ma anche di apprezzare il modo in cui la nonna in qualche modo gestisce questa nipote, l'aiuta, la sostiene, le fa capire attraverso la metafora della magia come potrebbe vivere meglio e come potrebbe in qualche modo trarre assolutamente anche vantaggio da questa sua sensibilità, rendere queste sue caratteristiche non un limite ma un qualcosa che la possano in qualche modo portare ad arricchire anche il mondo in cui vive. Non è facile, la nonna è molto chiara in questo senso, tu sarai sempre un pass nel senso non ti libererai mai di questa tua condizione, la questa non significa che non potrai imparare a gestirla e a vivere meglio. È questa la magia, la magia della concretezza, la magia che diventa metafora e spunto per affrontare meglio la vita. Mia è definita dalla mamma una bambina difficile e lei riesce a intercettare la madre mentre fa questi discorsi, ci rimane ovviamente molto male, lei è convinta di essere una bambina profondamente difficile e quindi quest'estate con la nonna in questo mood assolutamente giapponese, quindi un libro consigliatissimo agli amanti del Giappone perché la nonna ha una casa in campagna con un giardino stupendo e lei ha proprio questa voglia in qualche modo di introdurre anche la nipote nelle gioie diciamo del giardinaggio. Sappiamo che il giardinaggio è un qualcosa di strautilizzato, di strautile in condizioni di disagio emotivo come terapia occupazionale. La nonna ha questi ritmi che sono i ritmi della pioggia, i ritmi delle stagioni ma anche i ritmi della natura e lei molte volte si ritrova ad iniziare a finire la giornata con questi ritmi, seguendo questi ritmi. Quindi amici del Giappone sicuramente vi piacerà questo viaggio molto emotivo, ovviamente non è un romanzo dove accade nulla di che al di fuori, al di fuori ci sono questi ritmi calmi della stagione e della campagna diciamo giapponese e all'interno di questa bambina barra ragazzina perché è una preadolescente ci saranno queste trasformazioni. Sicuramente dopo l'estate, dopo quest'estate magica nel vero senso della parola con la nonna mia imparerà molto di se stessa. Lei stessa poi quando diventerà più grande perché il romanzo poi in qualche modo dà voce anche a una mia più grande dirà che quell'estate l'aveva profondamente cambiata. Non perché l'avesse in qualche modo modificata ma perché la nonna le aveva insegnato a gestirsi, a rendere la sua condizione di pass un pochino meno dolorosa e queste cose qua che la nonna le ha spiegato, le ha mostrato con delle frasi, insomma con una con una in qualche modo con una saggezza di vita quotidiana, una saggezza che però la nonna stessa, strega dell'Ovest, non era stata in grado di dare alla figlia perché la mamma di mia, cioè la figlia di questa nonna, non ha avuto dalla madre tutta questa attenzione, tutta questa cura e questa cosa mi ha fatto pensare anche quanto cambiamo nell'arco della nostra vita e che bravi nonni, ottimi nonni possono non essere stati altrettanto genitori perché comunque ripeto nella vita cambiamo ma non solo, abbiamo delle fasi nella nostra vita, fasi magari in cui siamo molto presi da altro, dalla carriera, dal lavoro, dalla fretta, dalle problematiche di tanti tipi, cose che magari poi con l'avanzare dell'età riusciamo a vedere con più distacco, non lo so se siete anche voi della stesso avviso ma capita spesso di sentire magari dai nostri stessi genitori, eh sì però con me non era così, quando ero piccola non era così perché quella calma, quel distacco nei confronti della vita non è un qualcosa di facile diciamo da conquistare e a volte si conquista in età avanzata quando ormai non siamo più genitori ma siamo diventati nonni e questo è molto bello come pensare che non siamo mai gli stessi, cioè c'è un'evoluzione nella nostra vita ed è molto bello vedere come tutto questo può essere messo nero su bianco in poche parole perché poi la scrittura è una scrittura asciutta, il libro è molto breve, è un libro che ti prende veramente, ti prende di conquista, sarà che io poi sono assolutamente legata a tutta questa storia perché comunque anch'io mi ritengo appunto un passo, la persona ad alta sensibilità lo sono e quindi questo mi ha sicuramente fatto entrare più in empatia con la protagonista. Scrivetemi nei commenti se anche voi sapete cosa sono i pass, chi sono, se anche voi lo siete, se siete persona ad alta sensibilità, se avete letto a proposito e se sapete che ci sono delle psicologi diciamo che hanno scritto già libri a proposito, c'è già una letteratura in merito e che aspetta solo di essere letta indubbiamente quindi scrivetemi nei commenti se volete approfondire appunto l'argomento pass e che cosa dirvi ragazzi, è un libro assolutamente straconsigliato a tutti soprattutto agli amanti del mondo giapponese. Comunque prima di salutarvi volevo farvi vedere cosa ho preso con piccolo ordine usato in libraccio, quindi parliamo di libri usati però assolutamente in buonissime condizioni ovvero le sorelle, una mente, una morta, questo è un thriller uscito un po' di tempo fa che mi ispirava parecchio da quando era uscito quindi l'ho trovato usato e l'ho preso. Manipolazione, sensi di colpa, ambiguità, il brivido e donna quindi assolutamente credo che sia un thriller psicologico. Poi a proposito di Corea, figlie del mare, due sorelle e un soldato nessuna via di scampo, un caso letterario internazionale ambientato nel 1943 in Corea, una pagina dimenticata della storia insieme alla storia di due sorelle il cui amore resiste e lotta nonostante gli orori della guerra e la violenza degli uomini. Poi ho trovato sempre su un libraccio questo libro cioè di Amanda Stevens che è il primo di una serie che credo abbia ispirato anche una serie televisiva. Comunque gli amici di Instagram sanno che ne abbiamo parlato anche parecchio quindi seguitemi su Instagram comunque ed è la storia appunto di questa ragazza che appunto lavora in un grande cimitero monumentale. È il primo di una serie quindi mi direte cosa l'hai comprato fa anche usato ma l'ho preso perché ho visto che sono disponibili gli ebook di tutti gli altri volumi della serie quindi se mi dovesse piacere assolutamente avrò appunto gli altri libri perché sono disponibili in ebook. Poi invece al mercatino dell'usato sabato ho trovato l'ultimo libro di Susan Goga 4 euro ragazzi miei quindi un libro assolutamente nuovo perché penso che non sia mai stato letto qui c'era ancora un po' di colla delle edichette ma poi la tolgo meglio. Misterio della statuetta Ligiada che è un giallo di questa scrittrice Susan Goga che io amo tantissimo è quella che ha scritto i misteri di Shaquille poi ha scritto anche i misteri di Riverview College insomma è una scrittrice che io amo tantissimo e questo è l'ultimo libro che ha scritto lo volevo assolutamente recuperare l'ho trovato al mercatino dell'usato poi. Ultimi due libri Daniel Steele, Zoya, io non ho mai letto niente di questa scrittrice che è famosissima, spammatissima, è una scrittrice di romanzi rosa ma io ho visto il film di questo libro molti anni fa, è un film che io ho adorato, ho amato tantissimo come Star che tra l'altro è con la stessa attrice che ha interpretato Brenda di Beverly Hills 9210 sono due film che io amo tantissimo e quindi Star lo devo ancora recuperare ma ho visto che c'è sul ribraccio sempre usato quindi sicuramente colpirò prima o poi e però questo l'ho trovato ed è ambientato nella Russia degli Zar. Quindi l'ho preso perché il film mi è piaciuto tantissimo io credo di aver pianto mai tanto come con appunto Zoya, insomma un film che mi ha commosso molto e poi Baudolino di Umberto Eco, un libro che io ho già in casa ma non nella prima edizione Bonpiani. Ho trovato questa prima edizione Bonpiani, vedete è un prezzo ottimo e quindi appunto l'ho preso perché l'avevo in un'altra edizione, mi pare Mondolibri, ma lo avevamo diciamo perché è un libro del marito però appunto la prima edizione Bonpiani ci mancava e quindi essendo in Camiglia grandi fan di Umberto Eco lo abbiamo appunto preso assolutamente come facevamo a lasciarlo lì. Mi pare di avervi detto tutto e nel prossimo video parleremo di Pandora che è un romanzo che non ho finito da molto, letto i dbook e poi dobbiamo parlare della stazione perché ragazzi miei ieri sera l'ho finito e quindi finalmente possiamo parlare della stazione di Jacopo De Michelis eh sì ragazzi beh ci ho messo, ci ho messo parecchio ma come tutte le cose anche un libro finisce comunque io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo video, ciao!